Ci ha fatto innamorare con rose rosse e piangere con il suo perdere l'amore, e ancora sorridere con un assurdato namurato e ballare sulle note di Arumba Descugnizzi. Stiamo parlando di Massimo Ranieri, che sarà tra gli ospiti del magazine It The Roadman, condotto da Pascal Vicedomini. 14 milioni di dischi venduti, Massimo Ranieri è tra gli artisti italiani che ha venduto più dischi al mondo. Infatti durante la sua carriera ha pubblicato 31 album, di cui 23 in studio, 4 live, 4 raccolte e 36 singoli insomma numeri importanti per un vero e proprio showman. Ma scopriamo qualche curiosità in più proprio su Massimo Ranieri. Chi è Massimo Ranieri? Classe 1951, all'anagrafe è Giovanni Calone anche se tutti lo conoscono con lo pseudonimo di Massimo Ranieri. Oltre a essere un bravissimo cantante, Ranieri è anche un attore, un regista teatrale e un conduttore televisivo. Massimo è il quinto di otto figli ed è cresciuto a Rione Pallonetto a Santa Lucia, a Napoli, in una zona popolare. Massimo Ranieri, infatti, non ha mai nascosto le sue umili orgini. Spesso, infatti, ha raccontato di abitare al quinto piano di un vecchio stabile e fin da piccolo ha sempre lavorato per contribuire economicamente in famiglia. Massimo Ranieri e il successo tra le sue canzoni di maggior successo c'è Perdere l'amore, pubblicata nel 1988, e ancora Rose Rosse, se bruciasse la città, la voce del silenzio. Una lunghissima carriera iniziata quando Massimo aveva 15 anni con la partecipazione a Canzonissima e poi proseguita fino ai giorni nostri. Negli anni Massimo Ranieri è diventato anche un vero e proprio punto di riferimento per i musical dove lo scorso maggio ha debuttato con lo spettacolo Sogno e Son Desto, Il Viaggio. Massimo Ranieri e la vita privata della vita privata di Massimo Ranieri non si sanno moltissime cose. Sappiamo che ha avuto una relazione con Franca Sebastiani dalla cui unione è nata anche una figlia. La relazione tra i due, però, a lungo è stata tenuta segreta. La Sebastiani è venuta a mancare nel 2015 a causa di un brutto male. Fonte foto htts www.facebook.com Massimo Ranieri Official Pashtag Questo articolo ti è piaciuto Ultimo aggiornamento 26 milioni e 72 mila 17 Marina Iliano Lanieri